gentili telespettatori buona giornata lieto fine rimandato di 24 ore a causa del maltempo per la geobarenz abbiamo visto che nel video precedente che il governo italiano sta autorizzando lo sbarco immediato per il momento di due ong su tre probabilmente verrà autorizzato anche quello della humanity 1 che a bordo o one che a bordo a 261 migranti per il momento è autorizzato lo sbarco di due da due ong per 282 persone mentre la humanity one con a bordo 261 migranti al momento resta in mare sos humanity ha raccontato che mentre la mattina del 6 dicembre l'equifaggio evitava un salvataggio assistito da vicino a un rimpatrio forzato di persone in fuga da parte della cosiddetta dicono guardia costiera libica con due imbarcazioni che hanno fermato un gommone non navigabile con a bordo circa 50 persone sei persone sono rimaste in acquita a seguito della rischiosa manovra insomma questo è quello che che hanno visto però allora torniamo però al punto al punto centrale il governo italiano quello degli sbarchi zero quelli dello stop immigrazione clandestina dei nuovi decreti sicurezza piante dosi metteremo le multe confischeremo le navi non nessuno sbarcherà se non hai requisiti tutta questa cosa qua no in continuazione con la linea salviniana dei tempi del 2019 eccetera eccetera il governo ha cambiato rotta c'è un nuovo governo finiti quelli di sinistra l'europa capirà che è finita la pacchia la francia ha capito che è finita la pacchia sia tutta questa cosa e poi gli italiani vedono arrivare altre tre ong ne arriverà ce ne arriva una quarta proprio sotto natale ma i decreti sicurezza nuovi non sono pronti piante dosi dice ci vorrà tempo non è una cosa così veloce fare dei nuovi decreti decreti flussi dove all'interno ci sarà anche la confisca della nave la multa eccetera eccetera molti si sono chiesti come mai tutta questa lentezza a fare un provvedimento dove con un decreto legge un decreto legge può immediatamente intanto mettere la confisca la multa e già con quello hai sistemato le cose perché alla prima volta che un ong entra senza autorizzazione gli confischi la nave non gliela ridai più e il gioco è finito è finito ecco e invece no il governo non ha non ha detto una parola e non dici una parola non ha detto una parola e ha fatto sbarcare tutti anche la volta precedente ha fatto sbarcare tutti voi cosa credete che quei medici saliti all'improvviso che hanno fatto sbarcare tutti gli stessi medici che erano saliti il giorno prima avevano fatto una selezione il giorno dopo fanno sbarcare tutti era sembrato un po strana quella cosa lì qualcuno aveva ipotizzato no ma è perché c'è l'accordo con macron loro prendono la ong ocean viking allora l'italia fa sbarcare le altre due infatti immediatamente l'italia ha fatto sbarcare con i medici che hanno reputato che tutti dovessero scendere la ong va verso la francia poi tutto quel casino che è venuto fuori con con i francesi che si sono messi a strillare e ma quindi la prima volta questi medici all'improvviso salgono e fanno scendere tutti questa volta invece non sono i medici ma direttamente da roma scendere tutti perché perché siamo a natale e a natale siamo tutti più buoni quindi è perché è natale perché un braccio di ferro che comincia il 9 dicembre non si risolve neanche la vigilia di natale e la meloni non voleva essere additata come un governo mostro dall'europa dagli altri stati era e l'hanno fatti scendere tutti perché è natale li hanno fatti scendere tutti per non creare confusioni in europa per non doversi scontrare con tutta l'europa con la francia con la germania e per questo che hanno fatto scendere tutti hanno fatto scendere tutti perché faranno scendere tutti da adesso in poi e poi uno dei capisaldi del dei dei programmi di governo del centrodestra era proprio fermare l'immigrazione clandestina e cancellare il reddito di cittadinanza e abbiamo visto che il reddito di cittadinanza non viene cancellato viene lasciato ai due terzi dei fruitori a un terzo verrà cancellato che è fermare l'immigrazione clandestina come diceva la meloni blocco navale di blocco navale non se ne è parlato più si è parlato gli si è cambiato il nome piano marshall per per l'africa che si sottointende che il blocco navale il piano marshall vuol dire mettersi d'accordo con i paesi di partenza qual è la verità perché stanno preparando un decreto di quelli che fermeranno le ong o perché ha cambiato il governo ha cambiato idea e ha deciso di fare esattamente come faceva draghi come faceva conte due il secondo governo conte qual è la verità la meloni ha visto che fermare le ong verrebbe fuori un casino in europa e adesso c'è la priorità di farsi approvare la legge di bilancio qual è la verità perché la meloni questa volta come la volta precedente ha cambiato linea e dal nessuno entra senza documenti in maniera legale a arrivano i medici e fanno scendere tutti l'altra volta 20 giorni fa e oggi prima di medici fanno scendere subito tutti per qual è la ragione perché è natale per non scontrarsi con l'europa perché prima deve fare approvare la finanziaria dall'europa perché sta aspettando che l'europa trovi una soluzione dopo averli fatti scendere tutti in questi giorni l'europa dirà ah vabbè dai è tornato tutto come prima non credo che l'europa con quello che ha visto oggi facendo scendere tutti non credo che l'europa abbia tutta questa fretta adesso di trovare una soluzione quindi quello che vuole fare meloni è far trovare una soluzione all'europa o far sì che l'europa non trovi una soluzione per trovarne una da sola qual è la realtà oppure l'ultima che vi dicevo il governo sui migranti irregolari ha cambiato completamente opinione e si è allineato ai governi di sinistra a quel punto verrebbe avvalorata la tesi che non c'è più destra e sinistra ma i partiti sono tutti uguali non hanno nessuna distinzione la distinzione sta solo nel leader nel carisma del leader quindi qual è la verità quello che vi dicevo prima o i governi diventano tutti uguali una cosa è fare l'opposizione poi quando sei al governo capisci che non puoi fare altrimenti che una finanziaria devi fare in un certo modo che puoi solo mettere delle piccole bandierine lo scopriremo lo scopriremo col tempo perché non c'è nessuna dichiarazione del governo per il momento nel momento in cui io sto registrando questo video grazie a tutti arrivederci